Stai scaldando? Sì Oggi sfido Marcello, Marcello Ascani Io sfido lui semmai Lui sfida, è vero, chi sono io? Il capo Lo sfido in una sfida di forza muscolosa e versione povera Perché noi siamo poveri, quindi facciamo una sfida di forza musco-povera In realtà stiamo solo bruciando calorie perché dopo dobbiamo andare a fare un versus food Che vedete prossimamente sul canale Io è da stamattina che sono a digiuno Anche io, da ieri Sceglieremo due sfide a testa Due sulle quali io penso di poter battere Marcello in palestra E due sulle quali lui pensa di potermi battere Due nelle quali, o sulle quali, no, due nelle quali E che ho detto? Vabbè, nei quali io penso di potermi far valere più che altro Bravo, io penso di averti il sederino su tutto Esatto Allora, per iniziare, mi raccomando, se dovete acquistare qualcosa da Burk Powders Integratori, alimentazione, vestiti Vi lascio il link in descrizione, ci sono il link dei miei prodotti preferiti Basta marchetta, lo trovate in descrizione Ma iniziamo La prima sfida su cui ti sfido per scaldarci sono le trazioni Chi fa più trazioni in... Da sopra? Un minuto e mezzo Non l'ho detto, ma questo è il secondo episodio di questa serie Nel primo episodio ho sfidato la Lorenzo Lari Ho perso e oggi devo farmi valere Avete già lasciato like? Ah, no, a un milione, quanti ne fai ormai? Troppi? Troppi like Basta, basta Non lasciare più like Va bene Chi inizia? Non so più che carta Dai dietro Uno Due Tre Non lo so Morra cinese Morra cinese Inizio io Via le scarpe Nove Aspetta Via i pantaloni Sopraccinato dal pre-workout Tre Due Uno Via Uno Due Tre Quattro Otto Nove Sopraccinato dal pre-workout Piano 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 Quanto siamo? Diciannove secondi Vai vai Tredici Quattordici Quinti Con calma Con calma Mezzo minuto Ciannove Venti Venti Non ci stanno Venti 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 Con calma Con calma Baffa Baffa Venti 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 Sopraccinato Non mi va già più mamma Venti Nove Vai Venti Dieci secondi Trenta Trentuno Trentatue 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 Basta Trentatue Mi sento un po' Gesù Aiuto Non mi ha idea è un buon numero Trentatere Sì Il mio problema è l'esecuzione C'è tutto di non arrivare Eh di Tenere baffa Trentatere è un numero di merda Secondo me Scrivete nei commenti Quante ne fate in un minuto e mezzo Questo potete provarlo a caso Tre Due Uno Via Uno Due Tre Quattro È fortissimo Un po' crossfitter Due Otto Nove Cosa? Venti 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 Trentasei secondi È un crossfitter mancato Ma io ho fatto una volta crossfitter Uno Due Sali Cinque Che è bello slancio Venti cinque Venti cinque Mancano trenta secondi Venti sei No Sette No sei arrivato Qui no proprio Non manca Sì sei torto Hai dieci secondi Posso cambiare presa no? Sì 28 E 29 No vabbè basta Trenta 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 29 Guarda che sei andato bene Oscillavi un pochetto troppo Però Verso la fine facciamo così Però Però Ho vinto la prima sfida Mi piace Però non sono rimasto umiliato No Umiliato no Sento che io sono una pippa Non può essere umiliato da una pippa C'è da dire Che tutti i miei sfidanti Mi provano a fregarmi Quell'altro con lo stacco Faceva così E metteva più peso del dovuto Lui Eh io baro con le razioni Perché non so qual è la tecnica ufficiale Tu bari Io lecce Pensa Dai facciamo Ancora un minuto e mezzo per i piegamenti Inizi tu Questa cosa l'ho decisa io Perché ho l'impressione Lui essendo molto pesante Potrebbe non essere facilitata In questa sfida Comunque io sono infortunato alla spalla Vuoi ricordare il mio infortunato alla spalla Recentissimo Quindi potrei avere problemi Tre Due Uno Vai Siamo uno Siamo a due Siamo a tre Quattro Cinque Quindici Sedici Sette Diciotto Vintitre Vintitquattro Mi sto annoiando Vinticinque Sei Trentatré Quattro Vinticinque Sei noioso zio Ne fai troppe Quanto è? Trentacinque in trentotto secondi E Quaranta Dove il trentanone c'è il quaranta Mi sento un minuto È giusto? Sì Quaranta e tre Quanto è elegante? Quarantaquattro Quaranta e cinque Come fai ad essere così forte? Dove sei allenato? Non so sempre questo Io so questo Ah è vero Lui ha fatto one punch man workout Per un vero mese Sì Quarantanove Dai dai Cinquanta Vai vai Cinquanta secondi Tre Due Uno Cinquantuno Cinquantuno Eh hai fatto cinquantuno piegamenti Non pensi di farmi Dubito tantissimo di vedere di capacità su questa sfida Siamo pronti Il mio batteria? Cinquantuno Cinquantuno Cinque Ho il mio santino che mi protegge Signor Broly E tre E due E uno Vai Uno Due Tre Tre Quattro Cinque Sono stacco Quattordici Quindici Sedici Venticinque Venticinque Ventisei Sono stacco Dai 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 Ventisette Ventotto Ventinove Trenticinque Trentasei Trentasette Trentotto Trentanove Quaranta Quaranta Esattamente C'è cinquanta secondi Quarantacinque Quarantasei Ti mancano Venticinque secondi Vai 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 Quarantasette Quarantotto Quarantanove Cinquanta Cinquantuno Adesso siamo pari Parne un altro Ah ok Cinquantadue Mi hai superato Uno e ventinove Sono stanco Veramente tanto Ti sfido Nella prossima sfida In cui so di vincere So di perdere Ma mi piace Perché Perché perdere? Do un po' di brio Perché è cardio Facciamo un barbibolla Barbibolla L'ho già fatto vedere Sul cane una volta Mi lanciai la palla all'altro Quando la lanci Tu la ricevi Devi fare uno squat E poi la lanci Ok Dopo che la lanciai Devi fare un barbis Test Vai Ok Sei lento zia Più veloce Capito? Ok Così Comunque la palla È da 6 kg Comunque questa la chiamata Sfila di forza povera Perché la sfida di forza muscolosa Era Su un attico No? Luis presente Capito adesso La battuta Quindi è sfida di forza povera Tu cazzo Ah è caccata Vabbè è un bonus Non ridere Non ridere 1 a 0 Vai Non è fiamato Non è fiamato Io già faccio Aiuto Aspetta Stop Aiuto Non ho scottato Ho barato Chi ha perso? Ho barato io Mi so 1 a 1 Ho vento Una delle regole Se non fai la squat E lanci Hai barato Io proprio prima Non ho fatto un po' Vieni Ti ho visto che barati Dai Ultima Non mi piace più Ha vinto Qual è la terza sfida? Tu che l'hai scelta? La corsa Perché è l'unica In cui so che posso batterlo Ok Quindi scatti? Sì Perché se faccio resistenza Ovviamente Sì Tu sei un maratoneta Non mi piace E se mentre noi siamo di là Qualcuno ruberà questa videocamera È mia Lasciamela Cioè Se la rubate Guardate questa clip E lasciatemi la videocamera Grazie Ora abbiamo Riccardo Appoggiatela qui Preferibilmente Non rubatela proprio 3 2 1 Via Maledetto E siamo a 2 Ho perso Quando corro Una cosa bruttissima Poi da bari ma niente Dobbiamo fare uno spareggio Ultima sfida Per decadere lo spareggio Ci metteremo in verticale al muro Quindi assistiti al muro Chi scende prima perde Io non faccio la verticale Perché ho fatto ginnastica e robotica In realtà Ti rivelo Avevo 16 anni Io invece Una volta ho fatto pipì in verticale E non so scherzare Mi sono riuscita a pesciare molto lontano Ero ubriano Ero ubriano Quindi Ero bravo Sì E' stato il bello snatch Ero il papietto 3 2 1 Vai Mi aspetta qua Mi aspetta qua Ci siete 3, 2, 1 Via Ma sai che Mi fa male la testa No Mi fa male il cervello Zio Non va No no Mi fa malissimo Non ce la faccio Scusate Sposto gli amori che ti prende Aiuto Fa malissimo la testa La mascella No 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 Guardami gli occhi Non so se sono rossi Ma Che è successo? No zio Niente Però ho sentito la pressione Nella mascella Ora siamo così Scioglie la pressione Ma io Perché al muro Cos'è difficile Normalmente Non lo so Dai proviamo 1 1 Andiamo a fanculo Oggi Vi parlerò Di come Ho conosciuto Marcella Scani Lui non lo sa Ma in realtà Esattamente un anno fa In questo giorno Lo saprei Che tu non lo sai Ma un anno fa Ci siamo conosciuti Al ristorante Di persona Lo saprei? Ora te lo dico io Quale ristorante? Quello sotto a casa mia Era un anno fa già? Sì Ho vinto Ho vinto la sfida Però mi ha fatto meno male In compensa Ok Un anno fa Lo saprei? Guarda te l'ho detto Auguri Già un anno fa Ora possiamo fare sesso Ho vinto Contro Marcella Scani Iscrivetevi nei commenti Il prossimo youtuber Da sfidare Lasciate like se vi va Se vi fa piacere Io non faccio con la strada Non vale E io non corro E non sto in verticale Al muro di solito In descrizione trovate anche Il suo canale Però prima iscrivetevi al mio Poi al suo Però mi raccomando Prima al mio Poi Ok In descrizione Ci vediamo al prossimo video Ciao Vale Grazie di aver ripreso questo video Se sei arrivato alla fine Di questo video Commenta con Salmone Grazie 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 Grazie